Andi a curi a te Ho fatto la torta, non l'hai comissi? Visto la parmigiana non sta accendendo? Andate, io sto cominciando a tagliare Eh, vamo, vamo Ti dà a sopportare, non è? Questa è la parmigiana impanata L'ho fatta fritta, eh Vedi una bella faccia con te Mi dà bollino, vai, a me te No, quando ci vuoi, ci vuoi Andate, io chiudo E muzzico No, vai, 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 vai Nonatella che ti ha preparato, ora sta accendendo Pure quella da là Quindi io non ho scelto quale Le mani E tutto inizia sempre con le mani Ragazzi, questa è venuta più su cosa? Ecco qua Attenzione che è bollente Ora lo spengo un attimo Se no me ne ha abbambato Mi sono preparato il ruoto Ho messo la carta assorbente sotto Con la carta forno Se no sta circa la carta vicina di Mugna Ho messo uova Formaggio Pepe E sale Allora passatevi dall'uovo e buttatelo all'uovo Questa è impanata Ma ci sono da Dragos La farina Giussi me la dai un attimo per piacere? Grazie amore Fa, fa Farina Fa, fa Farina, facite Allora, sta chi la mette prima nella farina e poi nell'uovo Chi la mette nell'uovo e poi nella farina Ognuno fa come vuole Ma è giusto, non è nella farina? Beh, ci faccio prima la farina e poi l'uovo E via Tipo ci siamo con il professore E dice no si metteva prima nell'uovo e poi nella farina Io la faccio come oggi Ti faccio prima la farina e poi l'uovo La tutta è la girata Prendi tutta l'uovo Ehi Ma che l'è bella mangiata pura così sale e pepe Mi sa lo vado a prendere qui C'è una passata una passata Vai, vai, vai A me te rammi una mano A me ne so caro La lavata in mano a me te eh Se no dici ci sei prissi che in mano Con le mani, con le mani, con le mani Con le mani, con le mani Vai a me te, vai Ehi, vai Vai a me te Ehi Che me bullezza I pizze Vai a me te, vai Oggi stai provando le mani Nonnatele Nonnatele, vedete? Passaggio nell'uovo Bravo a me te Grande a me te Ogni tanto la lavata le mani Non c'erano le cimine Non le lavavamo sempre in mano Ma nonnatele ti obbligava a lavare le mani Ma io non glielo obbligavo, sai perché? Perché a me te già era una persona pulita L'ha pensato da solo di lavarsi le mani Prima e dopo Io penso che senza lavare le mani Non c'erano le mani Non c'erano le mani Di certo non c'erano le mani Non c'erano le mani Vai vai Non c'erano le mani Allora queste qua non sono impanate Vedete? Questa è un pochillato di parmigiano Bravo Questa è una potata e una girata Si è fatto di parmigiano Un pochino di parmigiano e uova E poi che si tratta solo di normale Ho messo la il sugo Le mani sono pulite fresche Ho passato di salsa la coppa Mi sembra di sal Questa è mozzarella? Mozzarella, non mozzarella Ognuno la fa come vuole Mi piace farla così Ho passato di salsa Sto facendo una palazzina No parmigiano non ho detto non ho detto no a casa non ne metto troppo perché che lì sotto bravo tocco finale formaggio mettete qua a cascata una spolverata di pepe le foglie di basilica e che si aprono già un pochino l'ho fatta la torta questa qua è quella la fritta vedete? eh certo io non la metto vicino a te diciamo che questa è la classica parmigiana come di pepe l'abbiamo fatto un poco più bassa vedete che sei a te che c'è un basso botte piccola vino buono alliva questa la chiudo così questa è la fritta è la fritta vieni vieni tanti auguri a te ho fatto la torta non hai capito? bravo questa è quella albocchita impanata veramente impanata impanata non è che quando ti impanano la canina? sei a me sei a me oggi mi sta accendendo tanto il forno questa è una famigiana questa la metto un po' sopra e quella di sopra la metto giù vedete? la faccia ha scelto la mano guardate che sei a cominciare a tagliare eh? beh vamo va ti dà sto puttando eh? eccola qua questa è la parmigiana impanata la durata è fritta eh? vedete la bella faccia con te guarda che posso aspetta vieni qua vieni qua vieni qua siamo pronti siamo pronti qua sto puttando ti è? guarda che bello rumore ha fatto guarda come si è? in realtà si doveva asciugare un altro poco vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua quando ci vuoi ce l'ho vieni qua vieni qua io chiudo e muzzica no però vieni qua vieni qua non è quella che ti ha preparato ora sta accendendo pure quella di là questa è quella che ha mandurato e fritta giusto? questo pochino di manello andiamo a prendere le patate quindi io non ho scelto quale sono andato dietro le mani e tutto inizia sempre con le mani vieni qua allora fai due cuzzatelle perché una per questa e una per quella dici tu giustamente esatto io farei due cuzzatelle faccio una solo e una per te allora Davide faccio una per te ti fai una cuzzatella? o vuoi cuzzatella? o vuoi cuzzatella? o vuoi cuzzatella? guarda l'ho piaciuta questa è che vada là eh questa è che la fritta guarda lì guarda lì guarda lì guarda che torta guarda che torta guarda che torta senti senti mi rispira che non mi dico senti ma questa è una riuscita mi ha dato la salzatura una cosa che bella buona te bella amore ma per Davide che Davide vuole questa Davide dacci il tuo piattino ecco qua guarda te va ragazzi questa è venuta più su cosa ecco qua ecco qua perchè veramente stanno venendo i prezzi perchè loro devono andare via perchè questa qua doveva stare un po' in posa stai nella bocca la sesta e come un terremoto guarda che venne su scudule e poi la sesta vedete? però ci arriviamo ma noi ci sono fumo oggi nel cadino davide vieni qua prima che ti mangi tu ci facciamo arrivare qua ma che stai andare per me eh vieni che ti mangi e questo è di Davide è parmigiana vedete? la cattura poco panna cavata eh e ancora si amalgama di più vieni che ti mangiati la parmigiana non è te è buona ha storia è storia un bacio buon appetito